Una violenta aggressione questa mattina all'interno della Casa della Salute di Pieve Santo Stefano. Attorno alle 13, madre e figlio hanno infatti aggredito un medico psichiatra. L'allarme è partito nella tarda mattinata quando l'aggressore si è scagliato con violenza contro il dottore. Il personale presente ha cercato di calmare l'uomo, chiamando il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto sono così arrivati sia i sanitari che i carabinieri. Il medico, un 39enne, è stato trasportato al pronto soccorso di Sansepolcro in codice giallo. Ha riportato un trauma cranico, uno all'orecchio ed uno alle gambe. Ho visto solo lui che è venuto a fare spesa e basta. E la mamma che è venuta scortata da un carabiniere a fare spesa all'una e mezza. Poi è arrivato il maresciallo e l'ha presa e l'hanno portata via. Non so dove l'hanno portata. All'interno di qui c'è delle persone molto efficienti e noi quando veniamo qui ci sentiamo sicure. Sia andando su alla residenza protetta, ci sono delle persone meravigliose, sia qui che lavorano. Nel pomeriggio è arrivato anche un comunicato dell'Asla Toscana Sud-Est. Sono molto dispiaciuto per l'accaduta, afferma Enrico Desideri, il direttore generale, ed esprimo tutta la vicinanza al nostro medico che ha subito l'aggressione. Le forme di violenza, prosegue i desideri che si stanno verificando contro gli operatori, ci inducono a lavorare per migliorare l'oggettiva sicurezza dei nostri professionisti. L'azienda infatti si sta impegnando con una duplice azione, la verifica della sicurezza delle sedie e la dotazione di sistemi di allarme portatili.